Grazie Fabio, grazie agli organizzatori e a Giancarlo in particolare che mi ha invitato. Io sono una figura un po' sconosciuta nell'ambito della sanità italiana, sono un po' doiatra, figura molto conosciuta negli Stati Uniti, nei paesi anglosassoni, anche in molti paesi in Europa, Spagna, Portogallo, Irlanda e nello sport ancora di meno questa figura, perché normalmente si occupa del piede o un tecnico ortopedico o adesso in Italia il podologo che è una laurea triennale che si occupa più delle parti dermatologiche. Il podiatra è un po' come l'odontoiatra, una laurea direttamente specialistica di secondo livello di 5 anni che implica la capacità di poter diagnosticare, visitare e poi trattare con varie strategie terapeutiche il piede. Prima di cominciare a parlarvi delle relazioni tra piede, perché i relatori precedenti mi hanno aperto un'autostrada, perché si capisce come l'anca, essendo un po' più alta, subisce comunque gli effetti di qualcosa che sta più in basso e amo ricordare sempre che l'unico punto del corpo che tocca terra, quindi in contatto col mondo, è il piede. Quindi le articolazioni sovrastanti. Quindi come ha detto bene prima Rando e il dottor Tenconi, alcune volte il soffermarsi solo su una patologia distrettuale, che può essere ginocchio-anca, vedremo poi nella seconda relazione che mi è stata assegnata, le relazioni tra piede e ginocchio, qui siamo più su piede e anca, e non tener conto di cosa succede sotto può essere un grave errore, perché non si va alla ricerca della vera causa o una delle cause principali che determinano un anomalo funzionamento di questo distretto e quindi un'anomala usura, un po' come delle macchine. Se voi non fate la convergenza, l'equilibratura e l'assetto, cosa succede? Allora, se andate a 50 all'ora neanche ve ne accorgete, no? Ma se cominciate a prendere la stessa macchina con questo assetto disastrato e andare in autostrada a 130, beh la prima cosa che succede è che il volante vibra, avete difficoltà, fate più fatica a tenere la macchina in carreggiata e se poi da questa macchina esigete una prestazione da 200 all'ora siete sicuri che andrete fuori strada. Questo vi dà l'idea di come piccoli difetti con piccoli attività quotidiane non hanno una ripercussione così enorme, ma man mano che nello sport, stiamo parlando, si alza il livello di richiesta di prestazione dalle singole strutture e dal complesso funzionale, questo diventa fondamentale. Ora, qui siamo nella patria di Pisani, che è stato un maestro del piede, della chirurgia del piede, persona squisita, che ho avuto il piacere di conoscere e di imparare da lui, e lui cosa diceva? Diceva che l'articolazione estragolo calcaneo scafoidea è analogicamente riconducibile da un punto di vista anatomico, evolutivo e malformativo all'articolazione coccus femorale. Quindi veramente le ha messe molto in relazione, tant'è che in un altro lavoro ha scritto in presenza di un disassetto femoro-rotulio con strabismo convergente di rotule di antiversione dell'anca, si potrebbe far riferimento non solo necessariamente alla loro essenzialità, ma ad anche, lui ha detto un eventuale, io metto invece quasi sicuramente probabile, loro secondarietà in rapporto a disformismi della coxapedis. È dato proprio il termine anche coxa per richiamare anatomicamente e funzionalmente questa grande relazione che c'è tra piede e anca, a monte del disassetto rotatorio dell'arto inferiore. La coxapedis la vedete qui, il significato deriva appunto dal particolare significato funzionale di una struttura che per dati anatomici, evolutivi e clinici può essere analogicamente comparata all'articolazione coccus femorale. Qui vedete le corrispondenze anatomiche con la coccus femorale nell'analogia del collo della testa dell'astragolo con l'epifisi prossimale del femore. Dal punto di vista evolutivo ci sono delle detorsioni che avvengono a livello del collo stragalico ma anche del collo femorale e queste sono opposte in direzione ma sovrapponibili per i relativi valori angolari. Quindi è come se ci fosse una crescita in cui queste due articolazioni crescono in maniera opposta ma devono riequilibrare costantemente un sistema. Le differenze sono che nella coccus femorale c'è un'articolarità molto ampia che viene concessa alla struttura enartrosica che diventa fondamentale nelle esigenze di movimento dell'anca. La strutturazione enartrosica della coccus pedis permette di modulare a piede stabile la direzionabilità delle forze e qui vedete in quelle immagini come se io cambio la posizione della stragalo che è cosiddetto il pivò del piede vado a modificare la rotazione e le rotazioni e i movimenti che possono avvenire a livello di anca. Quindi quando noi parleremo poi anche di ginocchio, sindromi dolorosi di femore rotule ma anche patologie, sindrome della bandeletta di tibia eccetera, sono tutti legate a molte volte a problemi biomeccanici del piede. Ricordatevi che non è che nella natura fa sempre le cose bene purtroppo e quindi questa fisiologica detorsione femorale che deve avvenire nei bambini non avviene sempre per cui non va stigmatizzata subito come patologica quando vediamo un bambino camminare o con le punte in tre rotate o con una extra rotazione ma se voi notate non è vero che va sempre a posto da sola perché abbiamo un sacco di adulti che camminano così che vuol dire che la natura non gliel'ha portati ai giusti gradi che avrebbe dovuto arrivare per permettere una camminata fisiologica normale. Quindi teniamone conto perché un take home che voglio darvi non è vero che tutto sia giusto andando avanti. Come uno dice il piede piatto del bambino non va planterizzato non va corretto non va fatta riabilitazione perché perché tanto sia giusta e come mai ci sono tanti adulti col piede piatto cioè non sempre la natura giusta quindi va il clinico in questo caso il podiatra deve valutare se è ancora nei range di fisiologia temporali legati all'età e alla fascia oppure se è già fuori e quindi va aiutato a ritrovare un suo equilibrio fin dove è possibile. Quali sono i meccanismi posturali? Beh vedete se c'è un cedimento ha parlato prima il professor Tenconi di guardare i piedi ecco un messaggio da portare a casa quando avete comunque un problema dell'anca è stato detto prima e ve lo ribadisco io guardate sempre i piedi e se vedete che ci sono almeno due piedi che ruotano completamente in dentro non potete non immaginare che non abbiano influenza sull'anca in maniera intra extra rotativa ancora più grave quando voi vedete un piede solo che è asimmetrico e non confondiamo qua il piede piatto col piede pronato che sono due cose totalmente diverse il piede piatto è la classico esame da podoscopio dove tu metti un paziente su questo vetro e vedi che c'è un appiattimento dell'orma plantare può essere anche fisiologica ricordatevi che se noi prendiamo la razza africana e i maratoneti keniani e dell'africa hanno quasi tutti una morfologia piatta eppure vincono anche a piedi nudi se ricordiamo a belle bichica delle maratone quando gli europei con dei piedi perfetti o più perfetti da questo punto di vista ortopedico anche con scarpe di aiuto non riescono a stargli dietro quindi cosa è patologico e cosa è funzionale non dipende solo dalla forma ma dalla capacità di movimento e la capacità di dare al sistema un funzionamento equilibrato qui vedete alcune conseguenze classiche nei libri di postrologia vengono insegnate anche se queste sono conseguenze solo statiche e ricordiamoci che cambia tutto tra statica e dinamica cioè nella mia esperienza di 30 anni di analisi sportive di gente comune ho visto piedi che apparentemente in statica sembrano in una certa maniera e in dinamica si comportano in maniera totalmente opposta e ricordatevi che poi quando noi arriviamo alla diagnosi correzza come diceva prima il relatore precedente che può essere il collo ocetobolare il labbro però tutto questo è derivato da un meccanismo che ha portato a rompersi quel pezzo perché se non è nato malformato ma è nato sano perché a un certo punto crolla ecco il crollo può essere dovuto a questi micro o macro movimenti continui perché immaginatevi quanti movimenti passi e gesti atletici fa un atleta nell'arco della sua vita se questi sono alterati si riproducono in maniera esponenziale fino a creare dei danni strutturali da un difetto funzionale abbiamo un difetto poi una patologia strutturale qui vedete sempre le conseguenze una cosa che vi invito sempre ad analizzare oltre a guardare i piedi e anche a tenere presente che molte patologie dell'anca ma anche del ginocchio e del piede derivano da una non diagnosi di una eterometria reale degli arti inferiori cosa non facile perché si sente in questo campo a no ma non è vera queste sono false queste sono vere dipende dall'articolazione temporomandibolare no dipende dai piedi sembra quasi che il podologo deve vendere plantari quindi dipende tutto dai piedi il dentista deve vendere bite quindi dipende tutto dal dall'articolazione temporomandibolare non è così ci vorrebbe una coscienza e una capacità diagnostica tale da capire primo se sono reali e funzionali e secondo se sono reali se sono a partenza podalica o a discendenza superiore qui vedete alcuni esami che si utilizzano come sistema eos che oggi purtroppo abbiamo solo due macchine in italia ma è molto utile per fare uno studio approfondito della posizione angolare quindi non per traumatologia altre patologie ma lo studio della postura dal punto di vista osteoarticolare fatta con questi sistemi a bassissima radiazione che esistono un po di attra però non si può fermare alla struttura statica per capire perché un'anca andata in crisi quindi deve studiare il piede nelle sue fasi di movimento esistono almeno tre fasi ma gli americani ne parlano di quattro in cui c'è il rocker 1 rocker 2 rocker 3 rocker 1 è la fase in cui il tallone appoggia a terra rocker 2 c'è la fase di appoggio monopodalico dove tutto il piede appoggia e l'altro arto è libero di avanzare per continuare il movimento e in finale la parte più importante nello sport secondo me è l'ultima fase rocker 3 dove il piede è solo sull'avampiede quindi da immetatarsi alle dita dove l'attivazione muscolare è la massima con gli studi elettromiografici e dove avvengono la maggior parte di patologie podaliche o sovrassegmentarie per capire come può funzionare un piede perché metterlo su un podoscopio e vedere se è piatto o valgo anche mio figlio quando aveva due anni era capace c'è una volta che gli dici tutto giallo piatto quando invece solo davanti e dietro è cavo non ci non ha laurea però purtroppo oggi la maggior parte ragiona in termini di piatto o cavo valgo o varo è finita lì no è molto più complesso lo studio del piede e implica la capacità di capire che esistono degli assi biomeccanici che permettono di capire come può avvenire il movimento e bisogna saperli studiare perché più questi assi che uno conosce sono perpendicolari al piano più il movimento sarà importante mentre più l'asse sarà parallelo al piano più il movimento sarà ridotto quindi è uno studio funzionale più che strutturale del piede per capire poi perché influisce su un'anca questi assi sono gli assi della tibiotarsica l'asse sottastragalico e l'asse del primo raggio questi assi perché sono importanti perché li troverete poi nei libri di testo perché a seconda dell'asse possono avvenire solo certi movimenti e certi gradi di movimento del piede e di quello che sta sopra non ve li sto a spiegare perché non è un corso di biomeccanica ma un po di atra bravo prima di decidere se intervenire con la terapia ortese con una terapia riabilitativa o prescrivere una terapia chirurgica deve capire come funzionano i singoli segmenti perché il piede è complesso fatto di molti strutture una intera in che può interagire con gli altri qual è il passo normale che permetterà un'anca di funzionare bene deve essere un piede che ha un'alternanza pronosupinatoria che vuol dire che nelle varie fasi che vi ho detto che gli americani chiamano il strike for food load il lift e toe off divisa in quattro parti ci deve essere questa capacità del piede di passare dall'esterno all'interno e di avanzare quindi non è vero che un presidio deve essere antipronatorio antipronatorio no ci deve essere un dispositivo capace di o una riabilitazione capace di riequilibrare la giusta alternanza pronosupinatoria e questi assi condizionano questa capacità l'asse longitudinale e l'asse obliquo la sottastragalica è fondamentale perché a seconda se sia bloccata o sbloccata permette dei movimenti o non ne permette quindi qui vedete come avviene dal punto di vista biomeccanico queste sono le tre fasi che vi ho detto le tre fasi hanno tre funzioni che poi si ripercuotono sull'anca perché la prima fase deve frenare la caduta del corpo a terra se questa fase avviene male abbiamo un'onda d'urto e un ritorno sulla caviglia ginocchio e anca importante per cui c'è un sistema di paracadute io lo chiamo dove il piede assorbe l'energia e la diminuisce la fase di appoggio abbiamo visto è una fase in cui invece il piede si deve irrigidire quindi nella prima fase deve essere morbido elastico adattativo nella seconda fase deve invece irrigidirsi perché deve dare la spinta per muoversi quindi non può stare nella condizione precedente e nell'ultima fase deve trasferire il carico dall'esterno all'interno perché la gamba di appoggio deve portare il peso sull'altra gamba in modo che ci sia questa alternanza e questo è quello che vi ho spiegato quindi a questo punto quando questi sistemi funzionali ecco perché non è possibile oggi visitare un un piede su un fotoscopio perché ti dà troppo poco come informazioni rispetto a queste indagini funzionali che ti permettono di capire perché c'è qualcosa che non va e cosa succederà sopra che subirà questo effetto. Scusa Luca se ti interrompo tu stai unendo le due relazioni perché mancando saggini ti vorrei dire di mantenere i tempi su questa e se non so se stai unendo le due insieme. Io poi a seconda dei tempi te li giostro adesso volevo fare un cappello introduttivo per capire la relazione piede là io quindi vado avanti con la seconda subito dopo sì finisco questa l'altra è molto più breve perché è solo sul ginocchio ok tu dammi l'input grazie quando non sto adesso a spiegarvi quali patologie poi ci sono negli sportivi legati al malfunzionamento del piede qui c'è sul sito del podiatrics sports medicine americano tutti i vari tipi di patologie e con articoli relazionati relativi al piede in particolare voi vedete però quello che oggi cerchiamo di portare a casa come messaggio è che dal piede possiamo avere la spiegazione di alcune patologie dell'anca quindi riconoscere la patogenesi di queste patologie che abbiamo visto la maggior parte degli sportivi sono extra articolari perché sono legati a problemi tendinei borsitici oppure neuralgici quando il malfunzionamento intrappola o schiaccia o stira delle fasci nervosi che danno delle sindrome e delle patologie di tipo neurologico o tendineo. Che cosa può fare un podiatra per il medico dello sport per il fisiatra per l'ortopedico beh può dare il suo contributo nell'analisi funzionale del piede in modo che nel contesto poi della multidisciplinarità che è fondamentale si stabilisca quali sono le priorità su cui agire altrimenti ognuno viaggia per i fatti suoi e ognuno crede di avere la soluzione e non si arriva esistono strumenti che devo dire che sono utili ma sono utili quando un clinico ha la capacità di visitare e diagnosticare bene perché altrimenti purtroppo questi strumenti anche di appoggio podalico vengono venduti come specchietti delle allodole cioè la gente pensa che se tu ti metti il piede sopra una pedana questo ti dice tutto di te e ancora di più ti spiega perché la tua anca sta male non esiste è più un discorso commerciale questo perché si fa credere alla gente che quell'apparecchio sia capace di fare una diagnosi che non lo è quello apparecchio ti dice solo dove sono le pressioni e la maggior parte che voi vedete sono pressioni statiche tra l'altro che nello sport ci servono quasi zero quasi zero se posso permettermi no però la gente crede che sono i sistemi più avanzati non è così infatti se voi vedete quando questi tecnici che utilizzano queste strumentazioni in genere sono officine ortopedici tennici ortopedici stampano un sacco di fogli e non arrivano però a nulla non c'è scritto nulla alla fine quindi come diceva marchetti ogni individuo esempio è un gesto sportivo attraverso strategie motori assolutamente personalizzate che non sono identificabili con una semplice pedana baropodometrica e ritornando a pisani visto che siamo in casa sua ed è un grande maestro lui aveva invece capito come doveva essere visto il piede in chiave funzionale per capire le patologie sovrasegmentarie perché aveva scritto in alto a destra voi vedete le interdipendenze e questo sovrasegmentarie non regione miogene scheletriche legate al piede in carico e legate non tanto alla statica che in bipedestazione ma alla monopedestazione e soprattutto quando poi andiamo verso cammino salto e corsa non parlava neanche più di biomeccanica ma di biodinamica nello studio che andava effettuato quando queste cose avvengono nello sport c'è una moltiplicazione delle forze in gioco enorme fino a arrivare vedete da 300 kg in mezzo fondo fino a 1000 quasi 150 kg nel basket con degli impatti che vanno fino a 12 volte il nostro peso del corpo quindi immaginatevi il piede la caviglia il ginocchio e l'anca come subiscono queste sollecitazioni meccaniche abnormi e quindi l'esame clinico biomeccanico che era il tema della prima relazione ci permette di valutare singolarmente ogni singola articolazione tibiotarsica mediotarsica prima metatarsio falangea e poi vedere anche invece nel contesto del bilancio posturale globale come cosa avviene sopra nel bacino del ginocchio valutando la loro posizione e loro capacità di movimento qui vedete esami che vengono fatti normalmente anche da un poliattro dello sport per valutare i vari singoli segmenti integrati poi eventualmente da strumenti diagnostici come quelli che vedete che sono più o meno statico dinamici e ci permettono di valutare se c'è una relazione tra gli appoggi e la postura questi sono strumenti più quello che ecco importante come si diceva prima tenconi e che se io studio una signora anziana di 80 anni o una persona di 50 normale non può essere studiata e analizzata come un atleta perché l'atleta va visto nel suo gesto io seguo molti tennisti e calciatori sono i due filoni che seguo di più ma sono due sport completamente diversi sempre multidirezionali con attività del piede che vanno analizzati quando c'è una patologia in essere nel momento in cui si crea la patologia e quindi alcuni studi vanno fatti direttamente sul campo o con la capacità di vedere cosa succede in quel gesto questa era la prima introduzione per dirvi come il piede il messaggio da portare a casa dovete imparare a dire esiste non solo quando c'è un ginocchio guardare il ginocchio non solo quando c'è un anche guardare l'anca ma capire che ci può essere una relazione con questo piede avevo dei casi clinici molto veloci da farvi vedere di calciatori con classiche sindrome rettobuttorie che possono avere mille cause ma tra le mille cause ricordatevi che a volte il piede che crea qui vi ho messo alcuni casi veloci il piede che ha delle alterazioni potrebbe essere la chiave di soluzione per una semplicissima soluzione con una terapia ortesica plantare ad esempio quindi al di là delle deformazioni malformazioni che non possono essere risolte con questo tipo di terapia tenete conto che molti giocatori in prima stanza vengono visitati e trattati con una semplice terapia ortesica plantare se la sindrome rettobuttoria passa ma veloce nel giro di 15 giorni un mese massimo vuol dire che il problema era legato a queste catene ascendenti a partenza podalica che erano alterate e che ripristinandole si ripristina tutto quello che la biomeccanica del bacino a livello funzionale dinamico nel suo gesto sportivo se non passa vuol dire che il problema da altre parti va affrontato con altri tipi di terapie ovviamente le terapie non sono poi vedremo adesso nelle prossime relazioni non devono essere delle solette prese messe lì perché non difficilmente avranno un risultato in vari sport anche qui nell'equitazione qui c'è tutta un'anamnese le terapie la nostra cartella clinica e poi la creazione di questi vedete specifici dispositivi medici che noi chiamiamo podortotici per non confonderli con i plantari che ci danno delle risposte soddisfacenti e se non ce le danno siamo consci dei dei limiti e delle indicazioni e passiamo ad altri specialisti che possono prendere in carico problemi invece di tipo più ampio chiudiamo questa relazione mi mettete la seconda per favore che è molto veloce perché solo più sul ginocchio quanti minuti ancora fabio quanti minuti a sette e mezzo grazie non ancora visto ecco il ginocchio funziona come l'anca è un sistema unico funziona come l'anca non che che sia stessa articolazione intendo dire dal punto di vista mio podoiatrico il ginocchio è un'articolazione che risente enormemente della posizione del funzionamento dei piedi non dico di più ma in ugual misura che un'anca e adesso cerchiamo di vedere perché questo avviene non voglio mandatevelo cercare su youtube qui c'è un altro filmato che spiega le relazioni tra piede e ginocchio ma che ci siano per esempio una netta a me vengono molte volte pazienti addirittura operati poi vi farò vedere qui un caso clinico interessante anche giovani molto giovani che anche dopo l'intervento di qualunque tipo esso sia continuano avere disturbi di questo ginocchio perché è la domanda beh qui è veramente fondamentale fare un'analisi fatta bene della leg eventuale leg length discrepancy cioè quella differenza di lunghezza di gamba che molte volte non viene presa in considerazione perché nelle università italiane è stato detto che fino a un centimetro non c'è nessun problema questo è la verità assoluta che viene lasciata a tutti noi dopodiché vediamo no però anche quel centimetro andrebbe valutato ma nella mia esperienza vi porto solo la mia esperienza che non è la verità ho visto che a volte anche assimetrie reali sto parlando ma anche funzionali che vanno trattate solo temporaneamente in quel caso e con accordo con il medico dello sport o il fisiatra per riabilitarle poi ritornare a vedere se possono avere grandi benefici per cambiare un attimo il sistema e riportare un equilibrio diverso dal punto di vista anche della apparente differenza di differenza ovviamente se c'è una differenza reale è una differenza importante i carichi su quelle articolazioni non saranno solo problemi all'inizio potranno essere problemi tendine i capsulari extra articolari ma poi questa articolazione che per che lavorerà in maniera simmetrica in maniera simmetrica nel punto di massima pressione si concentrano delle forze che cominceranno a bucare e a rovinare la cartiraggine articolare e iniziano le condropatie o le miniscopatie dovute a iperpressione compartimentale da una parte e dall'altra quindi il piede qui è veramente questa frase la salute di ciò che sta sopra dipende da ciò che mette sotto è uno dei nostri slogan per far capire analizziamolo l'analisi non è facile per me anche valutando i lavori in letteratura se voi guardate addirittura con radiografie tac non sempre c'è una statisticità significativa per capire se una gamba più lunga dell'altra per cui io ho ideato un mio protocollo in cui chiedo al radiologo e non riesco difficilmente ottenerla una semplice cosa io dico mi dovete misurare in carico in posizione naturale le ossa lunghe su quelle non abbiamo discussioni mi analizzate il femore destro il femore sinistro la lunghezza della tibia destra tibia sinistra se lì c'è già un evidente differenza superiore ai cinque millimetri quelle reale è inutile che discutiamo su tutto il resto perché tutte le altre variabili la variabile della caviglia del ginocchio e dell'anca sono variabili in cui la tensione muscolare può spostare i capi ossei e darti l'impressione che ci sia una differenza reale ma quello che conta abbiamo quattro ossa lunghissime analizziamo almeno quelle da lì partiamo per capire cercare di capire se c'è una reale o funzionale quando poi analizziamo solo il bacino perché se noi chiediamo solo una lastra del bacino ma come facciamo a capire se è ascendente o discendente se è vera quella posizione se è solo funzionale non abbiamo la visione di insieme ecco perché bisogna cercare di farlo ovviamente più segni portano a una coerenza io dico ad esempio se io l'apice ischiatico iliaco la testa femorale il troccantere tutti sopraelevati da una parte è difficile che sia funzionale quando invece ho delle incoerenze perché l'emibacino di destra ha una rotazione in apertura in chiusura in anteriorità in posteriorità quello può dare luogo a dei dubbi ma si va per con un razionale questi squilibri biomeccanici questa figura la illustra molto bene vedete come la posizione sotto del piede in pronazione gli americani dicono in inversione o eversione ipereversione porta immediatamente un cambiamento questo è bioingegneria della posizione dei carichi oltre all'angolo q oltre ad altri fattori ma porta immediatamente si può valutare con una radiografia perché lo stesso ginocchio poi fate mettere il piede in pronazione in carico fate una radiografia normale e in perpolazione superazione vedete subito come cambiano completamente gli assetti indipendentemente da tutti gli altri fattori e vedete come gli 80 kg di una persona posizionati al centro di un'articolazione che lavora con dei sistemi funzionali o posizionati da un lato oltre a traslare la rotola comprimono i compartimenti in maniera completamente anomala quindi la corretta posizione meccanica delle strutture osteomuscololegamentose in certe condizioni di deformità non solo le strutture capsulolegamentose delle linee muscolari ma anche quelle vasculonervose non so se vi è mai capitato di vedere problemi di gonfiori al ginocchio tendinopatia per esempio la zampa d'occa di cui abbiamo parlato nell'anatomia dei muscoli che vanno all'anca è una patologia ma spessissimo legata al piede basta fare una terapia ortesica plantare compensativa o una rieducazione funzionale del piede cioè l'importante è raggiungere l'obiettivo di ripristinare la posizione del piede giusta i tendini che vanno ad inserirsi sulla parte mediale della tibia non tirano più non devono tirare così tanto per mantenere il loro equilibrio e sparisce la tendinopatia immediatamente deve essere una cosa immediata quindi questa immagine era per rafforzare questa idea dal piede della muscolia ricordatevi che i soggetti, cioè le nostre strutture osse articolari sono soggetti delle leggi biofisiche la legge di Wolff che dice che tutti i cambiamenti della forma, funzione e posizione di un osso determinano modificazioni definitive sia della sua struttura interna sia della sua forma esterna la legge di Delpec, la funzionale delle cartilagini, dice che una diminuzione della pressione trasmessa dalla cartilagine di erotrodiale corrisponde a un aumento dell'attività della cartilagine di coniugazione ad essa correlata e viceversa e la legge di Davis, che è quella del diattamento dei tessuti molli dice che i legamenti e le parti molli sottoposti a tensione vanno incontro ad un allungamento per addizione tessutale viceversa, se rimangono lungo in uno stato di lassità, vanno incontro ad una progressiva retrazione quindi per questo il corpo umano va sempre visto come un capolavoro di ingegneria ma in una visione che io definisco podolistica, essendo un po' di altra e un'iperponazione del piede è una delle cause più comuni del dolore alle ginocchia quindi sono quei pazienti che magari fanno tecar, fisioterapia, riabilitazione e poi sanno bene perché hanno un effetto terapeutico efficace ma poi ricadono allo stesso problema abbiamo finito, voglio solo, qui erano tutti i metodi tradizionali che fanno capire le relazioni tra piede e ginocchio per varie patologie ecco, quando parliamo di plantari, ultima cosa, quale è ortesi giusta? ecco, uno dei motivi di insuccesso, per esempio nello sport questo dovete portarlo a casa come messaggio è che i plantari, primo, sono delle fotocopie dei piedi quindi se un piede è già sbagliato, fissano quella situazione secondo, non hanno una funzione dinamica funzionano in statica, da fermi che nello sportivo sono pochi gli sport che stai fermo voglio dire, forse gli scacchi seduto se lo vogliamo considerare uno sport quindi, da un punto di vista vedete qui questa riflessione provocatoria quando vedete un plantare che non ha nulla nella parte del rocker 3, della fase di propulsione che nello sport è fondamentale è un plantare che non avrà nessun effetto dal punto di vista biomeccanico e posturale sulle strutture sovrasegmentarie avranno lo solito oliva, il sostegno della volta tutte le classiche ricette che sono tutte uguali per il piede piatto ma che non sono considerate da noi podiatri terapia ortesica plantare cioè, plantare è una cosa terapia ortesica plantare è un'altra quindi, questo era solo per farvi vedere che esistono gli scopi di un'ortesi per chiudere la mia relazione devono essere, non togliere le pressioni ma ridurre la forza istantanea applicata primo principio secondo principio, ridurre il tempo in cui la forza è applicata quindi cambiare le fasi del gale cambiando gli assi di movimento che avevamo visto all'inizio e cambiando questi assi il corpo deve ritrovare quell'equilibrio che al di là delle pressioni torna a posto io vi ringrazio chiedo scusa di aver preso un po' più del tempo e finisco con questa bella immagine che ci dà l'idea che lo sport comunque è sempre vita e il piede ha un suo ruolo anche se non è quello vero e naturale ringrazio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti